Benvenuti! Ciao, cara! Eccomi! Tipo una festa di animali! Festa degli animali di internet! Ehi, ragazzi, ma io questi li conosco! Sono tutti famosi in internet! Come te, sei gatta imbronciata! 20 milioni di follower! Sì, sono io! Spettacolare! E io sono l'elefantista! Dipingo col naso! 35 milioni di follower! Siamo due giorni trucca auto! 59 milioni di follower! E io Jackie's Ganguro! 68 milioni di follower! Pronti a fare festa? Volete festeggiare con noi? Nessuno ci aveva mai invitati prima d'ora! Sforza orte! Sforza orte! Sforza orte! Sforza orte! Sforza orte! Sforza orte! Ma sì, perché no? Andiamo! O, ciao Pussole! Oh, ora ti riconosco! sei la buca! 90 milioni di follower! Sì, ma evito di darmi delle arie! Ehi, come va, amici? Bella festa, eh? Già, mi potete seguire? Certo, ma tu chi saresti? Sono il topo pizza! Un milione di follower! Bene, ecco fatto! Evviva! Un milione e un follower! Solo un milione! Avanti ragazzi, mica è facile avere follower! Invece è ora che tutti coppiano i miei video! Ehi, smettila! Ti denuncio, dico sul serio! Comunque, voi quanti follower avete? Da quanto siete virali? No, noi non siamo star di internet! Come? Credevo fosse delle star di video virali e invece siete solo degli sconosciuti? La festa è per gli animali di internet! Avete violato le regole! In qualche modo, ci siamo in internet! Seguitemi, sono bel tipo 28! Orso bianco famoso in Asia! E ora che farete? Chiamiamola polizia! Oh no! Polizia! Polizia! Ci, tu! Polizia, aiuto! Polizia! 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 Non lo so! Polizia! 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 Come? Fratellino, ma che stai dicendo? Non lo so. Lo sentite in un film. Parlex? Parlex? Ma che significa? Parlex! Cessare il fuoco e scendere a trattative con la parte avversa. A quanto pare toccherà ascoltarli. Sentite, mi dispiace, ma noi non volevamo intrufolarci. È che si è rotto il furgone e siamo bloccati qui. Vi prego, ci hanno cacciati dalla nostra casa solo perché siamo orsi. Essere orso bianco non è crimine. Vorremmo arrivare in Canada, nella speranza di trovare un posto in cui ci accolgano. No, nessuno tiene a noi solo perché siamo diversi. Non vi è mai capitato niente di simile? Sì, tutti pensano che io sia costantemente arrabbiata, ma questa è solo la mia faccia. Ho anche altri sentimenti. Nessuno mi considera un vero artista, soltanto perché dipingo col naso. Tutti mi vedono come un canguro forciuto, ma io sono molto più di questo. La gente è superficiale. Il mondo a volte è freddo e crudele, ma vogliamo credere che non sia sempre così. Ehi, forse ci siamo sbagliati su di voi. Scusateci, orsi. Al furgone ci pensiamo noi. Non vi arrendete pussole. Facciamo noi! Facciamo noi! Belle parole, orsi! Non riperiamo al volo! Venite, meglio che vi riposiate un po'. Grazie a tutti! Vi vogliamo bene! Rosani, rimangono qui! A me avete chiesto almeno 500.000 follower! Non è giusto! Tu mi hai stancato! Tu mi hai stancato!